Ciao a tutti, sono Luca Ferri, regista del film La Casa dell'Amore. Sono molto contento e parlo anche a nome del mio staff di presentare il film in anteprima italiana al Biografa Film Festival, quindi ringrazio il pubblico e anche il comitato di selezione. Il film fa parte di una trilogia, tre film interamente girati all'interno di ambienti domestici e questo è l'ultimo capitolo. Spero che Bianca, la protagonista del film, possa passarvi un po' della sua grazia come l'ha passata anche a noi in questi due lunghi anni di riprese. Buona visione.